Benvenuti in questo nuovo video, questo oggi giochiamo a Roblox, sì, su questo canale, perché in realtà giochiamo ad uno Roblox ha fatto quello che ho sempre voluto, che facesse uno che non aveva mai fatto Ovvero, mettere su uno un sacco di monetà, un sacco di regole particolarissime e fighissime Quindi, potrebbe essere il primo di tanti video, potrebbe essere il ritorno di uno, perché ci sono delle regole veramente assurde Vi dico solo che esiste una carta che si chiama più 99 Non vedo ora, starti lato Solo immaginare, vi lascio solo immaginare E quest'oggi facciamo il primo video Commenti, likes e tutto quanto, se volete continuare a vedere altri uno super particolari con monetà assurde Presa Ma partiamo, andiamo Ok Sono carico Allora, ho messo alcune regole veramente strambe Io non so neanche le regole, infatti C'è tutto di accumula, difesa, schiaffo a 6 e nessun bluff Vuol dire che quando uno mette un 6 bisogna lanciare la carta prima degli altri Ecco, voi siete stati troppo lenti C'era un 6 e bisognava già farlo Ok, ok Mi sto abituando a questa modalità Ok Ok, ok Allora, inizia un evento casuale Cos'è? Ok, io ne ho un sacco di punti di domande Infatti voglio comprare Ah, prendi un più uno Sì, raga, ho pescato io Ma che sfiga però Più due di Fede verso Mark Mark decide di cambiare giro Mi lancio il giro, mi lancio il giro Fede Cosa? Fede Più 6 Fede Fede sei scema? No, più 99? Fede Ma ti ero in silenzio Come l'ho vista Mi sono brillati gli occhi Fede Cosa? Fede Più 99? Fede Guardatelo Fede Cioè, io adesso non ti faccio Allora, Fede ha perso Grazie, campione Allora, iniziamo Vai, Fede Cos'è? Non l'ho visto Più 4, Fede Ok, no, va bene Meglio di più 99 Sì, ma ne ho 150 di più 4 Cosa sta succedendo? Ho messo un più 4 velocissima Così se ne prende Mark Lo potete fare, ragazzi Se siete veloci potete ribattere Basta, Steph Fede, tu oggi non vivi più Io vorrei avere le carte di Steph I ragazzi potrebbero girare E il giruto quanto troppo Prego, gira Cos'è quella roba? Gira Guarda quello stupido cretino Con l'evento è passato a tre carte Passa le carte nella direzione opposta Sì Otro carte Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso Io non ho veramente parole Fede mi uccide Oggi Fede mi uccide Dovete Cos'è più 16? Da dove è arrivato? Allora, vi faccio una proposta Ok Riniziamo la partita E la facciamo un po' più sobria Ok Perché non credo che sia finibile Questa partita Ok Molto semplicemente Ok Ok Allora ho messo modalità originale Dovrebbe essere un po' più sobria Ma ho lasciato Lo schiaffo a 6 Il tutto di accumula La difesa E nessun blef Ok Quindi ricordatevi che se uno mette 6 Dovete essere velocissimi Per fortuna mi riesco a difendere Ah Uff Uff Ragazzi Pesante Fede Cioè a me è capitato Sì Ma io mi ammazzo Butto qua No Mi capita a marci quindi Attenzione No Colpo di scena Colpo di scena Colpo di scena Gran colpo di scena Ragazzi Ma è bellissimo sta cosa E Fede da 15 Dal tonico No Ragazzi che colore era Non lo so Ok l'ho scoperto Ok Posso rigiocare Credo che ognuno può giocare due volte No ero solo io Ok scusatemi No solo il tuo campione Ragazzi non so che colore è E che colore è Pre premi tutti i colori È l'unico modo E ho premuto un colore a caso Non dirlo mai agli altri Così ci incasiniamo tutti a vicenda Quello avevo Ma la facevo mettere Marci Oh l'ho beccato subito Perché mi ricordavo gli ordini E Fede Così quindi Ok rivediamo i colori È tornato normale Brutto eh Io non l'avrei fatto al posto suo Ma era un evento casuale Che fuori Non l'ho scelto io A me non è piaciuto Questo atteggiamento Stati attenti Perché il signor Campioncino Lì alla destra Ha tre carte Non è vero Due carte Due carte Due carte No 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 Stupido Più due Non l'hai premuta Sei stato lento Bravi di nuovo Bravissimi ragazzi Stiamo dando degli schiavi A sto pagliaccio Ma quanto è scarso Eh vabbè Facciamo bene Perché ho tante belle carte Quindi No Fede Uno Che cos'era Quello Mi sono urlato Mi so spaventare Eh non devi urlare Quando fai uno Fede Ok No ma raga Non a me Come no Però ho più due Ho un più due Non ho più quattro Non lo potete usare lo stesso No non me l'ho fatto usare Non me l'ho fatto usare Vi siete salvati Ragazzi blocchiamo È il più lento Nel far west Comunque Mark Che colore avrò Bloccalo Che colore ho Ragazzi Oh cavolo Una possibilità Su quattro Campione Ok 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 Mamma che ansia Raga È stato bravo Comunque almeno Così più giocabile Uno Ok Secondo me Ha il rosso Il ragazzo Lì è Con me è il rosso Allora Lui il blu Non aveva il blu Quindi mettiamo il blu Il blu Bravo Teniamo il blu Tanto non posso buttare nulla Quindi pesco Vediamo Ok Ma guarda Ok Non ho premuto No 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 Raga Impazzisco Che faccio Che colore avrà ragazzi Al blu Al blu Al blu Cioè non al blu Scusatemi Basta che giro sul blu Ok Faccio una pazzia raga Perché non me la fa mettere Che pazzia vuoi fare Campione Raga mi hai crashato tutto È arrivato un bot Mi hai crashato No Fere Avevo un 2 giallo Una No adesso il bot Non sa che Se fa L'azzurro Attenzione Adesso il bot Il bot lo farà vincere Ragazzi Sì Cambio di giro Cambio di giro Marci bloccato Non dirmi cal giallo Non dirmelo Ok Mamma mia ragazzi Grazie Sto tornando ragazzi Eccola Sto tornando Bravo Marco non ci Che possibilità c'erano Che va il più 2 in mano Steph Di blocco Grande Brava E' il meglio del bot E' il meglio del bot Questa ragazza Io ti odio Bravissima 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 Fere Bravissima Allora Facciamo un altro round Comunque Mark è la persona più lenta A premere un tasto Nella storia dell'umanità Cioè Ha perso Tutti Le dispute Possibili Immaginabili Complimenti Ultimo round della giornata Stesse regole Marci salta al turno Più 2 per il campione Cambia il giro E lo restituisce a Fere Fere si prende il più 2 Mi spacco la faccia Unexpected Mossa Di alto livello Carina Mi ha fatto esaltare Va bene Va bene Rigioca Fere puoi giocare a due carte Lo so L'ho capito Arrabbiata ragazzi E' arrabbiata E' il turno di step finalmente No non arrabbiata 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 Ok 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 Arrivano 8 Arrivano 3 Sai che secondo me però Mark ha poche carte No si no Ma fai bene Perché io sai che con poche carte C'ho le mani grandi Quindi non mi piace Vero Allora Secondo me Dovremmo però Andare dalla parte opposta Perché Marci così Con il giallo Arriva a due carte Bravo Bravo Che c'è nulla Due carte per Marci Che secondo me è importante Guarda È sicuro Guarda Gliel'ho Non ha detto uno Non me l'ha fatto schiacciare Gliel'ho contestato ragazzi Sono stato velocissimo Mamma mia C'è proprio di riflesso Di riflesso Di riflesso C'è la velocità Del click Plà plà Cambio di colore Ok sappiamo che ha bisogno del rosso Dobbiamo cambiare colore in fretta Vabbè però questo Ce l'hai Ti do un uno Ti do un uno L'uno me lo metto in testa Evento casuale Sono famoso Lo sapevo già Grazie No raga Mi stanno arrivando Le richieste di amicizia Di Roblox Le vedo anch'io È la mappa più bella Che è bellissimo Ragazzi Ragazzi abbiamo perso No dai Io ho tutte le richieste di amicizia Steph 23 17 fan Anche a me Ragazzi abbiamo perso Secondo me Abbiamo perso Ha vinto Marci No Pesante Non me l'aspettavo questa Aia Mi spiace Ho pescato questo No No E l'ho pescato Io non ho nulla Sono molto pacifico al momento No Ok Marci non ha rosso Fere non ha rosso Restiamo sul rosso Anche se non ho rosso Mamma mia raga Si gira Si gira Marci continua a pescare Però trova Marci è fortunato Dai gioca a carta pescata Dai Campione Va bene Va bene Ma tu non hai nulla di utile Contro Fere Io ho qualcosa di utile Ma potrei potenzialmente Ma io ho delle carte orribili Ragazzi Anch'io raga Non posso più Va bene Ho capito Ok Ma perché Bravo Bravo Perché Hai messo pure il rosso Che non c'ha Marci Sicuramente un più due per Marci L'ho fatto solo per questo motivo Sei stato No no è stato bravo Marci Vedi Vedi Bravo più due Più due su Marci Importantissimo Easy Importantissimo Gioca a carta pescata Il prossimo giocatore pesca più due carte Tieni campione Ma in che senso E io non ci posso far nulla Era un evento casuale Cosa Marci non ho altro Non ti preoccupare Tanto ormai mi sento perso Certo che se rispondi con lui Beh da una a nove carte Ma per me È troppo divertente Questa è il sei È troppo divertente Non ti puoi distrarre un secondo Con questi cavolo di sei Io ormai Con il mouse puntato lì Vedi Dai è il primo che perde in vita mia Maledetti State tryhardando qua Ragazzi Feria tre carte Feria due carte Direzione casuale Ragazzi non mi piace Non la vogliamo far vincere Giusto? Non ho i colori giusti Quindi non rompete Però questo si può No Ufficiale Perché non è la versione ufficiale Non posso dire uno Campione Non ho nulla E noi Marci Tocca Marci Tocca a te Tocca a Marci Che faccio ragazzi? Marci vai No no Aspetta Marci Aspetta così Ora vai 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 Veloce Non ho capito cosa state facendo No No Marci Grazie Non è vero non ce l'ho Non ha il verde Ricordiamocelo Io non ho capito Io non ho capito Niente di quello che mi avete chiesto Marci Il giro Stava cambiando Mi hanno confuso Se avvicami Prima andava a me Invece che a lei Per è finito adesso l'evento Vanno masterati Eee Marci Guardate che anche Marca Tre carte No non è vero raga Non è mai Guardalo Guardalo l'infame Hai visto Mai Mai E aspettate Gli facciamo saltare un turno Ma guarda che tu sei veramente un bagliaccio Si È troppo divertente Io l'avevo cliccato Comunque Però va bene così Uno Lo contesto a Marca Pesca due carte Stupida Io sto zitto Io stanno Marci tiragli un più 4 Eh Non lo so Puoi guardare lo schermo Bravo Non ci credo Marci 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 Bravissimo 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 Non lo so Bravissimo Signori Ci fermiamo così È stupendo Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao